ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio su star wars jedi fallen order allora 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 nello scorso episodio abbiamo incontrato per la prima volta la nona sorella ora vediamo come proseguire la nostra avventura nel frattempo vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre se siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi allora vediamo dovrebbe essere qua eccoci qua un posto per meditare perfetto così da salvare il checkpoint ah bene ok allora arrampicati sull'albero delle origini oh oh ah Ma ce ne sono tre Mamma mia Ok, di qua dove si va? Ok Ah, porca miseria Volevi? Ah, quindi non c'è nulla da questa parte Beh, bastava saperlo Aspetta, aspetta, aspetta Si c'è qualcosa Solo che non c'è modo per Va bene Per generazioni i Wookiee vi si recavano in pellegrinaggio L'albero Li guidava Ah, quindi mi tocca comunque scendere Ah, perché è lì per andare avanti Ma andate via Ma ancora qualcuno? Maledetti Ma brutto Lumacone Fatta Torniamo qui No, poncio tenuto Girovago Beh, perché no Dai Questo piacerà molto A grise Spero soltanto che non cresca troppo Non so perché Ma non sono molto convinto Di quello che sto facendo Questo soldato è stato trascinato qui da una creatura È un postaccio Dici? Dici Quindi sì Devo andare per di qua Mi sono già perso di nuovo Ah, ok Dai Dai Ottimo Ottimo Non sappiamo chi è Murca Lui è fatto fuori la nonna sorella È bello, grande Lui è Trovato niente Amico mio Darfur ci ha guidato qui parlando di una gloriosa creatura chiamata Uccello Sciglio Che cacchio Alzati Alzati Prova di nuovo Continua a fallire maestro Davvero? Bene Continua a cadere Continua a rimetterti in piedi È l'unico modo per avere successo Non farti intralciare dal tuo ego ferito Non accampare inutili scuse Non cedere alla paura di perdere E rimettiti in piedi Andiamo Riprova Quasi L'importante è rialzarsi sempre Finché ci rialziamo Possiamo vincere Quindi abbiamo sbloccato la capriola Jedi Sono tornato quello che ero prima dell'epurazione Prima che il mio maestro morisse Ok Meditiamo Ottimo E proseguiamo la nostra avventura Ora che abbiamo salvato il checkpoint Niente ci può fermare Abbiamo una bella rincorsa Un po' troppo forse Cavolo bro Ok Qua? Beh, 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 beh Vabbè Ehm È ferito Facciamo qualcosa Sì, avvicinate Qua c'è un eco Qua ci sono dei Micaal Un po' troppo Qua c'è un eco Qua c'è un eco Qua c'è un eco Allora Oh, una cassa Allora c'è un eco Cascic libero Oh, questo mi piace E non poco Vediamo se troviamo altra bella roba Andando avanti Questo è caduto a un wookie che scalava l'albero Sarà stata una prova Wow Vediamo di non cadere C'ho provato Ah beh Parano se è mosso l'albero No È delle guerre dei cloni La guerra non è finita I nostri sforzi Sono serviti Ah, c'è un'altra più in là Adesso l'ho vista Ok Come Allora C'è un'altra più C'è un'altra più Ah, non avevo visto Ma che cavolo Ah Ok, ce l'abbiamo fatta Ehi, Ziti Bene, toccate Vediamo cosa hai trovato Amico mio Dalla cima di quest'albero si gode di una vista impagabile Mai vista prima Vuoi darci un passaggio? C'è molto che l'impero non ha ancora toccato Ehi, Ziti Ehi, Ziti Cosa sarebbe? Ben fatto, BD Allora Vediamo l'elsa nuova Pace e giustizia dovrebbe essere No Ah, questa qua No Bella Presa Ok, proseguiamo Vediamo dove ci porta Cerchi qualcosa? Finalmente Finalmente Ho trovato il mio tesoro L'astrium Se ne servivano Se ne servivano i saggi Zeffo Millenni fa Sto stringendo i saggi Zeffo Sto stringendo fra le mie mani un pezzo di storia galattica Non troverò Non troverò mai il modo di sdebitarmi con Tarful Sai cosa vuol dire questo? Non c'è più bisogno di tornare a Datomir L'oscurità L'oscurità ha reso impossibile la ricerca dell'astrium nella tomba di Kuget Ma la forza La forza ci ha mostrato un nuovo sentiero La tomba di Kuget La tomba di Kuget Allora, salviamo amici miei Direi che posso grudere qui l'episodio Spero che vi sia piaciuto Ovviamente vi invito a lasciare un bel like al video Ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche Per non perdere nessuno dei prossimi episodi Grazie ancora amici miei Noi ci vediamo al mio prossimo video Ciao ciao e grazie Ciao